Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso ci sono code segnalate nel tratto tra Firenze Scandicci e il Vidio per la variante di Valico. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione, restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Ricordiamo che è obbligatoria la dotazione invernale a bordo, catene da neve o gomme termiche sulle autostrade. Chiudiamo con i treni per circolazione perturbata nel nodo di Firenze e ci sono possibili variazioni, cancellazioni e ritardi. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e i comuni di Firenze. Buon viaggio!